Diffondere tra i giovani i valori della solidarietà, dell'accessibilità e dell'inclusione. Questo è lo spirito con cui la ONLUS Piattaforma Solidale entra dentro le scuole del territorio provinciale e regionale con il secondo concorso d'arte intitolato Il Valore della Solidarietà. Pittura, disegno, grafica digitale, murales, ceramica ed ogni altra forma artistica scelta dovrà sconfinare al di là del colore della pelle, delle difficoltà fisiche o intellettuali. Abbiamo anche delle grosse novità perché mentre lo scorso anno avevamo coinvolto solo gli cinque istituti che erano quelli che avevano sottoscritto insieme alla provincia di Pesorubino gli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri e la provincia di Pesorubino un protocollo d'intesa sulla accessibilità e l'inclusione. Quest'anno abbiamo allargato il concorso alla partecipazione anche di altri istituti pesaresi in primis lo scientifico, il classico e il conservatorio di musica Rossini. E in più quest'anno ci siamo proiettati anche verso le altre province marchigiane coinvolgendo anche tutti gli istituti d'arte della regione Marche. A valutare le opere sarà una giuria nominata da Piattaforma Solidale che dovrà selezionare tre scuole vincitrici. Le migliori opere, oltre ad essere premiate, faranno parte di una mostra collettiva dove ci saranno momenti di confronto tra gli studenti vincitori e alcuni artisti di maggiore esperienza sui temi di inclusione e solidarietà. Per il momento rappresento gli artisti che parteciperanno alla collettiva che si terrà dal 17 al 23 di dicembre alla Sala Laurana qui di Pesaro e ecco quest'anno siamo un pochino di più perché l'anno scorso eravamo 19 mentre quest'anno arriviamo a 22 anche perché si sono aggiunti degli artisti anche fuori Pesaro perché diciamo che le scorse edizioni sono state dedicate esclusivamente agli artisti pesaresi. Quest'anno invece abbiamo aperto a Fanno e anche a Senigallia visto e considerato che il concorso poi si è esteso a tutta la regione. In più avremo anche i quattro premiati del concorso dello scorso anno che il tema era appunto l'inclusione per cui ci sono i tre vincitori il primo, il secondo, il terzo classificato più la menzione d'onore quindi arriviamo a 22. Le iscrizioni sono aperte dal 15 novembre al 31 marzo 2023 mentre il termine ultimo per presentare le opere è fissato al 30 aprile del prossimo anno.